Vi ho appena riportato alcune notizie fresche dai nostri rossoneri, e se volete rimanere aggiornati su tutto ciò che accade a Milano, iscrivetevi a questo canale e vi aggiornerò ogni giorno. Carlo Pellegatti ha suggerito che il Milan potrebbe provare a ingaggiare Hugo Echitiche dal Paris Saint-Germain, avversario di stasera, nella finestra di trasferimenti di gennaio. Il Milan è stato collegato a diversi centravanti durante la finestra di trasferimento estiva. Da Medi Taremi del Porto ad Armando Broia del Chelsea, ed Echitiche è uno dei nomi più spesso citati. Alla fine, una mossa tardiva per Taremi non è andata a buon fine e, in mancanza di alternative che potessero essere prese al volo, il Consiglio ha deciso di ingaggiare Luca Jovic a costo zero dalla Fiorentina. Jovic non ha ancora dato il suo contributo sul fronte dei gol, mentre sta recuperando forma e condizione fisica, e il club dovrebbe investire in un nuovo attaccante la prossima estate. Pellegatti ha parlato della questione del numero 9 del Milan nella sua ultima rubrica per Milan News e ha, suggerito che Echitiche, che ha fatto solo un'apparizione in campionato con il PSG in questa stagione, potrebbe tornare di moda. Leggendo l'articolo di martedì mattina della Gazzetta dello Sport su questo argomento, sembra di poter scoprire il vero pensiero dell'allenatore del Milan, esordisce. È sicuramente contento di alcuni aspetti del gioco del leone, ma è molto più esigente per quanto riguarda la presenza in area di rigore, come killer dai 16 metri, e anche nei tiri da fuori area. Le fughe, seppur spettacolari, chiuse dai cross, non bastano più. Abbiamo bisogno dei suoi gol, della sua presenza lì, al culmine della tensione. Senza dimenticare la necessità primaria di acquistare finalmente un centravanti forte. Anche a gennaio, se le prestazioni di Jovic davanti alla porta continueranno ad essere le stesse. Un'idea! E chitiche in prestito, che è fuori dai piani del PSG. Amati tifosi del Milan Rosso Nero siete d'accordo con Carlo Pellegatti, voglio sapere la vostra opinione nei commenti iscrivetevi al canale e lasciate il vostro like per non perdere i prossimi video a presto!